Buonasera a tutti e a tutte, eccoci per un nuovo video sulle nostre lezioni di Forex sul trading per il cambio euro-dollaro. Oggi è domenica, questa è la sesta lezione. Riprendiamo però le fila a partire dalla quarta lezione dove avevamo parlato del trading sul grafico giornaliero. Ok, la nostra analisi sul grafico giornaliero rispetto al rialzo che il cambio avrebbe potuto avere al di sopra di 0,9332, cioè del massimo della prima candela giornaliera del mese di luglio, ha avuto un esito positivo. Si è avverato tutto, fino alla rottura del livello di 10,73 e 7, che ci hanno dato la possibilità di andare a toccare il prezzo evidenziato dall'ultima griglia del grafico giornaliero. Ok, ma che cosa a questo punto abbiamo, cosa il mercato ha delineato sul grafico giornaliero per i prossimi giorni e per le prossime settimane e per tutto il semestre che abbiamo iniziato, il secondo del 2023? Abbiamo, finalmente, il livello di prezzo del range del prossimo semestre. Come lo abbiamo ottenuto? Attraverso il minimo, qui, e il massimo delle prime 10 candele giornaliere del mese di luglio, il cosiddetto half year opening range. Ok? Quindi, segniamoci sul grafico, il minimo ha 08, 32 e 7, 08, 32 e 7, lo facciamo di un colore diverso, stavolta rosso, orange red, eccolo, e il massimo di venerdì. Il discorso ha 12, 44 e 4. Il concetto dell'half year opening range, il massimo e il minimo delle prime 10 candele di trading del mese di luglio, è un concetto non noto particolarmente o forse riservato solo agli addetti ai lavori. Tuttavia, è molto importante questo livello di range, perché le contrattazioni nel corso del semestre in corso saranno all'interno di questo range. potranno essere rotte al rialzo sopra 12, 44 e sotto 08, 32 e 7, ma è necessario sempre attendere degli eventi decisivi che ci daranno la conferma che il trend sia cambiato. Se torniamo indietro al livello, vedete, delle prime 10 candele del mese di gennaio, il minimo è stato 0,481,4, il massimo 0,867,2, abbiamo notato che il trading è rimasto, almeno in parte, all'interno di questo range. Che cosa ha dato luogo ad una rottura al rialzo del livello del range semestrale? Come vi dico sempre, è necessario avere due candele verdi consecutive che si aprono e si chiudono al di sopra del livello massimo. Qui, 0,8672, abbiamo avuto due candele che si sono aperte e si sono chiuse al di sopra del livello previsto che avevamo avuto dopo le prime 10 candele giornaliere del mese di gennaio. Il prezzo è sceso, i compratori sono entrati qui e successivamente il cambio è sì sceso, ma non abbiamo avuto la conferma che il trend si fosse invertito, cioè non abbiamo avuto le due candele bianche negative consecutive che si sono aperte al di sotto di questo livello, pertanto il nostro ingresso a 0,8672 era corretto. Noi avremmo dovuto chiudere la posizione solo nel caso avessimo avuto due candele negative bianche consecutive al di sotto di 0,8672 e quindi il prezzo è salito. Ok? Allo stesso modo oggi abbiamo il nostro nuovo half year trading range, ok? individuato dal massimo a 12,44 e dal minimo a 0,832,7. Quindi che cosa ci darà la conferma che il prezzo andrà più su di 12,44? Solo due candele positive verdi consecutive che si apriranno al di sopra di 12 e si chiuderanno al di sopra di 12,44, ok? Ora vi faccio vedere un attimo il grafico weekly. Guardate, qui abbiamo ancora di più plasticamente il risultato del semestre. Vedete? Il prezzo è sempre rimasto, settimanalmente non ha mai chiuso in questa prima fase al di sopra di 0,867,2. Qui questa figura ribassista ha un hammer rovesciato, ci ha dato la conferma che il prezzo sarebbe andato di nuovo a toccare il minimo a 0,481,4. Qui lo vedete benissimo. Se voi vi posizionate sul grafico weekly, qui si vede chiaramente, una candela positiva rialzista sopra a 0,867,2 ha dato il via al rialzo. In questa fase, all'inizio di maggio, vedete, la candela weekly ha chiuso al di sotto di 0,867. Eccolo qua, vedete? Noi abbiamo avuto due candele consecutive che si sono chiuse di nuovo, pardon, qui, una e due. Questa è stata una fase di consolidamento. Noi abbiamo avuto due candele consecutive che si sono chiuse al di sotto. Qui però c'era una classica figura ribassista, una pinbar molto negativa e molto ben sviluppata. Quindi i venditori sono entrati qui e sono andati più giù a prendere profitto. Noi in questo caso, come da tecnica, avremmo dovuto entrare sul livello 0,867 e avere il nostro stop, visto che la precedente candela era assolutamente negativa, quindi senza resistenza, a 12,71,4. Così va, tecnicamente, se si sta sul grafico giornaliero. Quindi, tecnicamente, l'ingresso di nuovo a 0,867,2 era giusto. Non avevamo resistenze superiori e quindi il nostro stop poteva essere solo 12,74. E infatti il prezzo successivamente è sceso di nuovo in area 0,650. Ora abbiamo la nostra nuova area di trading per il semestre che è partito il primo luglio. Pertanto, torniamo qui, vista la candela settimanale molto positiva, assolutamente positiva, che ha rotto anche la media a 200 periodi, la prossima settimana noi andremo sicuramente a toccare il livello di 12,74, ma non credo che andremo oltre. Pertanto, l'indicazione è quella di entrare in vendita sul massimo a 12,71 e di prendere profitto a 0,867, 0,832. Ok? Questa, se noi, ecco, vediamo i nostri livelli dell'Alf Year Opening Range precedente, primo semestre del 23, ok? E poi abbiamo il secondo semestre del 22. Quindi, dal momento che abbiamo già quasi raggiunto il massimo precedente, 12,44 e abbiamo un massimo a 12,74, io mi aspetto che a 12,74 i venditori tornino di nuovo in massa per andare a cacciare di nuovo il target a 0,867, 2. Tuttavia, se voi partite sempre dal grafico giornaliero, non potete sbagliare, ok? Una volta che in alto, qui in area 12,74, probabilmente la prossima settimana, come dicevo, sarà questo il livello di target, avremo una candela daily che si chiuderà al di sotto, vuol dire che i venditori sono arrivati. Certo, buona regola vuole che prima, sul grafico giornaliero, abbiamo una candela negativa, dopo una candela positiva. Siccome il nostro livello attualmente è 12,44, io vi consiglio di attenervi alle regole. Due candele che si aprono e si chiudono al di sotto di 12,44, due candele bianche negative che si aprono e si chiudono al di sotto di 12,44 ci daranno la conferma che i venditori hanno deciso di riposizionarsi short su questo livello. al primo rialzo su 12,44 entrate in short e andrete a prendere profitto in area 08,67, 08,32. Questo è la spiegazione dell'half year opening range di luglio per il secondo semestre del 2023. Io vi ringrazio di avermi seguito fin qui, lasciate i vostri commenti, se vi piace il video lasciate un like, condividete. Ci vedremo nei prossimi giorni per una tecnica sul trading sul grafico a 30 minuti, relativo sempre all'opening trading range. Ok, grazie, a presto.